Ben trovati amici di Padre Pio TV, quest'oggi abbiamo nei nostri studi un ospite d'eccezione. Si tratta di Beppe Signori, chi non conosce questo nome, questo volto dello sport italiano, un campione che nella Serie A ha davvero lasciato il segno. Dai suoi sordi sino alla nazionale ha voluto ripercorrere attraverso un libro fotografico, Il Sinistro di Signori, appunto questa storia. Una storia che non è soltanto di sport, ma anche di fede e di vita vissuta attraverso una serie di esperienze particolari nelle quali Padre Pio è entrato di forza. Innanzitutto benvenuto Beppe Signori. Da dove nasce questa tua particolare devozione nei confronti del Santo di Pietrelcina? La devozione è cominciata da quando ho avuto un incidente stradale qui vicino alla provincia di Foggia. Indossavo questa canottiera che mia mamma aveva fatto benedire a Padre Pio molti anni prima e poi aveva conservato e appunto in occasione di quell'incidente indossavo questa canottiera che era benedetta da lui. Ho distrussi la macchina quando viderò la macchina. Insomma ho detto come hai fatto a uscirne vivo da questa macchina. Io credo che lì ci sia stata appunto la mano di Padre Pio, quella canottiera benedetta che mi ha accompagnato poi per tutta la mia carriera. È una canottiera che poi sul libro è anche riportata, rammendata, che appunto come dicevo prima mi ha accompagnato in tutto il mio percorso, in tutta la mia carriera, con grandissime soddisfazioni insomma direi. e quindi da lì è partita la devozione, la frequentazione del santuario, venire e pregare qui a San Giovanni Rotondo. Ecco, una canottiera benedetta da Padre Pio appartenuta a tua madre, quindi la devozione ai confronti di Padre Pio era presente nella tua famiglia, ma precedentemente a questo momento ti avevano mai parlato di questo santo? Sì, parlato sì, ma in modo molto tranquillo, senza approfondire proprio la conoscenza vera e propria, che poi negli anni invece è cresciuta, ho rivisto immagini, ho letto tante cose su Padre Pio, mi affascinava appunto questo personaggio, questo frate, quel che poi è diventato santo, e quindi questa devozione è diventata sempre più grande e da lì insomma è nato questo rapporto che ogni volta che ho la possibilità torno perché mi fa sentire bene, mi fa stare meglio. La tua carriera è stata assegnata profondamente dall'esperienza nel Foggia, proprio in quel periodo hai avuto la possibilità di essere particolarmente vicino alla realtà del santuario. Ecco, che ricordi hai di quegli anni? Ma gli anni di Foggia per me sono stati fondamentali poi per il proseguo della mia carriera. Foggia è stato il trampolino di lancio per tanti, a prescindere del sottoscritto, per tanti giocatori. Abbiamo fatto delle cose incredibili e ancora oggi la gente si ricorda di Zemanlandia del 1988, quindi sono passati 31 anni ma ancora negli occhi della gente quando in questo caso mi rivedono cambiano lo sguardo, ritornano indietro nel tempo e fanno vivere tutte le gioie che abbiamo vissuto tutti insieme in quegli anni. Quindi dal punto di vista professionale quegli anni furono fondamentali per il tuo lancio sulla scena calcistica, ma poi ci sono stati altrettanti momenti esaltanti con la nazionale. Ecco, il giorno della prima convocazione, lo ricordi? Il giorno della prima convocazione me lo ricordo, è appunto facilitato dal gioco di Zeman, Sacchi mi convocò in nazionale proprio quando indossavo la maglia del Foggia. Quindi ecco perché dico che Foggia è stata la tappa fondamentale per poi affrontare tutto il resto della carriera. Dico, partito da Foggia è arrivato ai mondiali del 94 in America. Ecco, gli anni 90 sono stati sicuramente importanti anche, soprattutto nella tua esperienza, dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista spirituale, visto questo legame che poi attraverso il momento brutto ma superato dell'incidente ti ha avvicinato a Padre Pio e a un'altra grande figura che sempre negli anni 90 hai avuto la possibilità di avvicinare. Parliamo di Giovanni Paolo II. In quale circostanza avvenne questo incontro? Avvenne in una partita prima di Lazio-Juve dove praticamente ci convocò in Vaticano e ebbi la fortuna di regalargli la mia maglietta in quanto capitano della Lazio. Quindi sembrava proprio che questo percorso mi volesse accompagnare da Foggia, San Giovanni Rotondo a Roma dove c'era appunto la figura del Papa e che è stata un'emozione grandissima perché è stato un impatto con un personaggio di grande carisma che ti faceva capire insomma la potenza, la forza di quest'uomo con un semplice gesto perché praticamente... Ricordi delle parole particolari oltre a dei gesti? No, grazie e poi dopo c'è l'anello e gli ho dato una maglietta con tanto di... un po' di suggezione c'è stata. Certo, ecco diciamo appunto di questa tua carriera arrivata anche in nazionale ci sono stati momenti di grande entusiasmo ma anche momenti difficili in questi momenti quanto la fede ti ha aiutato? No, mi ha aiutato sempre anche perché io credo che uno non debba essere vicino alla fede quando le cose vanno male, anzi paradossalmente è quando le cose vanno bene che uno... quindi mi ha aiutato molto, è stata fondamentale e ripeto è come se avessi avuto durante tutta la mia carriera un angelo custode con me e il fatto di averlo a contatto con la pelle sicuramente mi dava molta più forza e energia. Ecco questo particolare della canottiera indossata in tutte le partite a punto di farla diventare praticamente quasi uno straccio proprio per... L'usura più volte, sì, dell'usura. Ora, l'ultima volta che l'hai indossata è stata nell'ultima partita che hai giocato in campionato, dopodiché? Adesso in una teca a casa lasciata come ho finito l'ultima partita, ancora proprio solo lavata e poi messa come una reliquia, nel senso che l'ho messa insieme a tutte le varie magliette che io ho avuto e indossato durante tutta la mia carriera e finisce con la canottiera quindi quella verrà costruita per tutta la vita. Ecco, questo è il tuo racconto personale. Ovviamente è un po' difficile anche immaginare da parte di altri giocatori, di altri calciatori ma questo più in generale nel mondo dello sport, dello spettacolo, dei momenti vissuti attraverso la fede. Ma la tua esperienza, la tua testimonianza dimostra che in tanti, forse anche molti non li conosciamo perché non lo esternano in maniera pubblica, questo elemento è presente. Ricordi qualche tuo compagno di squadra o avversario che condivideva con te un percorso comunque di fede? Ma sai, come dicevi tu, lì si va a toccare un tasto che ognuno magari vuole solo per sé perché anche a me non mi è mai piaciuto divulgare. Poi è ovvio che il fatto della maglietta dell'incidente abbia contribuito però io qua sono venuto tante, ma tante volte, mai nessuno ha saputo niente perché volevo condividere io e lui questo momento perché in quel momento io avevo bisogno di lui non di farlo sapere agli altri che avevo bisogno di lui. Non so se sono... Nella piena intimità. Perfetto, nella piena intimità e quindi è uscita la notizia solo perché ha fatto clamore il fatto dell'incidente dalla canottiera se no non si sarebbe saputo. L'avresti sentito per te. Quindi nella domanda specifica se qualche mio compagno può essere però non me l'ha mai detto. Ecco, mettiamola così. Ecco, allora andiamo verso la conclusione di questa nostra breve chiacchierata. Questi tuoi momenti vissuti accanto a Padre Pio in preghiera dinanzi alla tomba di Padre Pio sono stati immediati, se così possiamo dire, da una bella figura di frate che ci piace ricordare in questa occasione della quale tu hai un ricordo sicuramente caro. Frate Padre Terenzio. Sì, che è stato mio angelo custode, diciamo, ogni volta che io venivo mi prendeva a braccetto e mi faceva fare il giro del convento, mi faceva entrare nella celletta di Padre Pio, mi lasciava lì tranquillo. È stata una persona che mi ha aiutato molto, mi ha spiegato tante cose avendo appunto vissuto anche vicino a Padre Pio, degli aneddoti che tengo per me insomma e quindi ringrazierò per tutta la vita Padre Terenzio per quello che mi ha saputo dare e soprattutto dire. In conclusione, una domanda classica, quali sono i tuoi progetti per il futuro? I progetti del futuro sono quelli di poter aiutare in modo calcistico, nel mondo calcistico, i ragazzi a crescere. Purtroppo negli ultimi anni il calcio ha abbandonato quelli che sono i settori giovanili e invece riprendere per cercare di avere nuovi signori, nuovi del Piero, nuovi totti credo che sia importante soprattutto per il calcio italiano. Grazie Beppe e signori, grazie per la tua testimonianza, ecco davvero ti facciamo tanti auguri per il futuro e ormai ti accogliamo in questa nostra famiglia, quando verrai a San Giovanni Rotondo sarà un piacere comunque accoglierti anche nei nostri studi. Grazie, volevo ringraziare anche Stefano De Bonis che appunto mi ha dato la possibilità di presentare questo libro e quindi grazie. Benissimo, grazie ancora a voi per l'attenzione, restituiamo la linea alla regia per continuare con i programmi di Padre Pio TV.